Franco mi ha portato, la prima volta quando sono stato qua, mi ha portato quella collina lì, pioveva, c'era molto vento forte, guardando sotto c'era un piccolo buco quadrato così, rettangolo di una forma, profondità di circa 20 cm, così piccolo, così. Allora io ho curiosito, ma che cos'è questo spazio? Franco mi ha detto, questo era di una volta, di sarcofago di bambini, sarcofago di bambini hanno supporto i genitori, secolo, secolo, anni fa, no? Solo rimasto, spazio vuoto, rimasto lì ancora, quella mi ha corpito fortissimo, fortissimo, e poi l'anima, spirito delle bambini e genitori rimasto dentro questo spazio vuoto. E poi per quello mi ha corpito forte. Materiali visibili, carne, sangue e osso, sparisce i materiali, però l'anima non sparirà mai. Pensieri, amore, passioni e volontà, quelle rimangono.